Le questioni ambientali, così come l'urgenza dei migranti e delle drammatiche situazioni umanitarie nelle aree del mondo, colpite da conflitti. Sono stati questi temi al centro dell'incontro, oggi in Vaticano, tra Papa Francesco e il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. L'occasione è stata offerta da un workshop internazionale presso la sede dell'Accademia delle Scienze, la Casina Pio IV, al quale ha partecipato il capo del Palazzo di Vetro. Nel corso dell'incontro, rende noto la Sala Stampa Vaticana, Ban Ki-moon ha manifestato inoltre al Pontefice la sua gratitudine per aver accettato di rivolgersi all'Assemblea delle Nazioni Unite il prossimo 25 settembre e ha espresso grande attesa per la sua prossima enciclica.